Toto Cutugno nascondeva un segreto, ma Albano lo ha rivelato al mondo. Prima di iniziare il video, vorrei sottolineare l'importanza di premere il tasto iscriviti e attivare le notifiche, così che YouTube vi avvisi quando pubblicherò nuovi contenuti. Lasciare un mi piace è un gesto semplice ma significativo per il supporto e l'incoraggiamento che ci offrite. Grazie di cuore per la vostra partecipazione oggi. Desidero condividere con voi una notizia che ha profondamente colpito il panorama della musica italiana. Il grande Toto Cutugno, uno dei pilastri della musica popolare nel nostro paese, ci ha lasciati. Ha combattuto una lunga e coraggiosa battaglia contro un tumore alla prostata, una lotta che ha iniziato nel 2004. Le sue melodie hanno attraversato le generazioni, creando legami che rimarranno impressi nella storia della musica. Un altro protagonista indiscusso del panorama musicale italiano, Albano, ha scelto di condividere alcuni momenti intensi legati alla loro amicizia in un'intervista al Corriere della Sera. In quest'intervista, Albano ha dipinto un quadro intimo dell'amicizia che li ha uniti fin dal lontano 1977. Ha confidato. Eravamo fratelli, io e Toto, non rivali né nemici. La voce, all'inizio, era quella di Tony Trump, inconfondibile, anche se poi è stata sfumata in qualcosa di più sommesso. L'annuncio della scomparsa di Cutugno ha colto di sorpresa Albano durante le prove per un concerto a Forte dei Marmi, lasciandolo visibilmente scosso. Nonostante l'immagine spesso dipinta dal mondo della musica, che li vedeva in competizione, specialmente alle sfide di Sanremo, dove sembrava che l'uno inseguisse costantemente l'altro. La realtà era diversa. Erano, invece, amici sinceri e sempre solidali. Albano, anche se ormai ottantenne, ha continuato a dimostrare il suo impegno nella musica nonostante gli anni. Ha ricordato come Toto Cutugno si fosse rivolto a lui nel 2004 per chiedere consiglio riguardo alla sua salute. Albano fu pronto ad offrire supporto nelle prime cure e nelle diagnosi di tumore alla prostata, nonostante le previsioni iniziali fossero pessimistiche, dando a Cutugno soltanto cinque mesi di vita. Eppure, Toto Cutugno ha resistito per ben vent'anni, dimostrando una straordinaria tenacia. Retrocedendo agli anni 77, quando Albano già aveva fatto il suo nome nell'industria musicale e Toto stava facendo i primi passi, si trovarono a lavorare fianco a fianco nella stessa casa discografica. Da questa collaborazione nacque un'amicizia profonda che avrebbe sfidato il tempo. Si sono supportati reciprocamente, condividendo momenti di lavoro e di vita. In conclusione, mentre riflettiamo sulla carriera e sulla vita di Toto Cutugno, vi invito a condividere con noi le vostre riflessioni. Cosa pensate di questo grande artista? Lasciateci i vostri pensieri e i vostri ricordi qui sotto nei commenti. Grazie per averci seguito e a presto. Non dimenticate di iscrivervi e lasciare un commento qui sotto, e di seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie a tutti per averci seguito, e ci rivedremo presto su News Gossip World, con nuovi contenuti emozionanti. A presto!